A distanza di 30 ore non si hanno notizie ancora certe sull'autotrasportatore Giuseppe Mancuso di Rocca di Caprione che si trova tra gli imbarcati sulla Norman Atlantic. Il traghetto è alla deriva da ieri, a largo delle coste albanesi, a causa di un vasto incendio scoppiato a bordo e nel quale ha perso la vita un marinario albanese. Nella notte però un cittadino turco, già soccorso e portato in salvo, ha parlato di quattro vittime. Circostanze che fanno crescere l'angoscia tra i familiari dei passeggeri. Come detto Giuseppe Mancuso, è tra loro e da ieri mattina all'alba non riesce a mettersi in contatto con i propri cari che si trovano a Rocca di Caprileone. La moglie e il figlio hanno contattato la Farnesina ma hanno ottenuto pochissime notizie. Anche il sindaco, Bernadette Grasso, si è immediatamente attivato per avere novità. Ma il Ministero della Marina non è andato oltre la conferma della presenza dell'uomo a bordo nella lista degli imbarcati dalla Grecia. Troppo poco per chi vive ore di grande ansia e troppo poco anche da parte di una unità di crisi, come quella della Farnesina, che ancora non è riuscita a stilare una lista di passeggeri ancora a bordo e di eventuali feriti.